bello a tutti signori e benvenuti in questo settimo episodio di guns gore cannoli sono maullo941 e siamo sul mio secondo canale signori io vi ringrazio per i like per i commenti e suggerimenti spero che questa serie piaccia piano piano che andiamo sempre più avanti vi ricordo di fare un salto anche sul mio primo canale mi trovate come maullo941 in cui portiamo altri contenuti e altri gameplay dei tuoi signori vi ringrazio di tutto continuiamo la nostra avventura con il nostro video addirittura una combo terribile signori e che stiamo a parlare allora allora ce n'è per tutti stiamo calmi stiamo calmi che ce ne sta per tutti dai così e uno l'abbiamo fatto fuori il cuoco maledetto l'abbiamo fatto fuori quello mamma mia me l'ho dimenticato dei 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 perfetto la macchina esplosa senza che non avessimo fatto nulla va bene ogni tanto un po di fortuna che per noi occhio occhio l'erci levate le scatole un po di proiettili per voi a gratis calma 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 proiettozzo anche per te proiettozzo anche per te questi ci stanno di più il fucile a pompa è più particolare fucile a pompa è decisamente più particolare bravo zio sei andato nel fuoco bravo mi piace così bello intelligente grande anche l'omino col palloncino no non c'è lui l'omino col palloncino no a due a due me le tira le bombe mannaggia te senza testa voglio vedere come fatti alle bombe dai dai tirale tirale allora calma 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 vini che cazzo lo fai calma 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 l'erci te devi leva t'ho detto che te devi leva non te lo do l'autografo t'ho detto che te devi leva t'ho detto che te devi leva io non so quanti proiettili cio mannaggia di una miseria il policeman lo facciamo fuori così dai 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 calma e sangue freddo calma e sangue freddo calma e sangue freddo prendi fuoco perfetto signori pulito rapido e indolore va bene va bene dai questi li facciamo fuori semplici proiettili per il fucile a pompa mannaggia voi dai vini meno male no 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 il tedesco tedesco mira i piedi è terribile il tedesco te devi leva mannaggia te tedesco mira i piedi è pericolosissimo il tedesco zitto zitto quanto ci sta a morire sto tedesco vuoi morire elevati porca miseria è immortale oddio la signora che ha mangiato pesante la signora che ha mangiato pesante no 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 c'è un attimo di confusione tecnico tattica ormai la signora ce l'abbiamo qua praticamente dai così le ginocchie le abbiamo fatte saltare signora mia muore secondo voi questa questa mi sta resta in acidi tutto levati ok questo deve prendere fuoco per bene ok ho fatto un po di pulizia gratis facciamo ancora un po di pulizia andiamo avanti signori occhio al policeman col proiettile fuori dai 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 fuori tutte e due fuori uno fuori due ok non ce n'è non ce n'è signori se c'è vini non ce n'è per nessuno dai così dai fuori 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 no donna mia troppa troppa cacera troppa cacera troppa cacera troppissima cacera signori troppissima dammi no 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 lo sfera fiamme no dammi questo e dai così e uno e due e tre poi si accettano le ordinazioni da vaffanculo vaffan cuccolo saltiamo sorte adesso via poi chi altro c'era che rompeva le scato ci hanno levato metà vita porca miseria un caffettino me lo dai ok no ma guarda ma guarda che mi ha lisciato il tiro due proiettili dai dai oh salvataggio e caffè per noi buono così vita recuperata dammi la pistoletta normale che tanto lui è facile ok andiamo andiamo signori importantissimo recuperare la vita stai cartoni non per caso è dentro le scatole non c'è niente eccolo lì che arriva tutta in testa te le do dai 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 andiamo avanti andiamo avanti ma una città distrutta comunque è una città distrutta abbandonata mannaggia voi chiacchiappano pure alle spalle è terribile questa cosa che non te li aspetta alle spalle invece loro ci sono anche alle spalle ah ok se mi fucile poi mamma mia che tipo cazzuto che il gioco del rugby dai 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 vieni qua dove stai dove è è partito veloci no cioè sei sovravvissuto alla pistolona no dai abbiamo perso due punti no abbiamo perso metà vita per scherzare coltivo dai non ci sto oh un altro caffè meno male un great cannoli grande cannoli dai distruggiamo la macchina della polizia dai così ok rapido veloce indolore dai dai molotov per noi troppa cacciara signori calma 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 ce n'è per tutti ce n'è per tutti signori ce n'è per tutti un proiettile per tutti c'è tutto c'è per tutti signori non mi preoccupate no perché quello riesce a spararmi maledetto bastardo addirittura allora volete le bombe le bombe per voi signori anche una bella molotov vi piace no sono saltato malissimo io andate a farvi fottere male mamma mia no il cannoli cambia dai cacci no sto morendo per il bruciato ok calma c'è stato un attimo di panico panico calma calma ci siamo sì siamo a metà vita siamo al the bonnies private club ok mamma mia siamo al the bonnies private club interessante interessante siamo al club privato signori che locale sofisticato che locale sofisticato dai così mi serve un punto di salvataggio mamma mia mamma mia che brutta ballerina che brutta ballerina allora scusatemi scusatemi vedo 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 le va tutti mannaggia vedo vedo le va tutti scusatemi allora la ballerina la signorina ma porca siamo morti signori siamo ai 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 ma vedevate ma porca di una miseria infame questo è terribile allora la signorina che balla con la frusta in mano è qualcosa di obrobioso signori dai così in testa diretto si sta formando un po' di troppa cacciara per i miei gusti però va bene un po' di troppa cacciara mamma mia non non mamma mia guarda che bella coppiata guarda che bella coppia di donne chi non direbbe di no a due donne del genere mamma mia da starci il più lontano possibile il policeman ok calma 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 riusciamo a andare da questa parte si delle ginocchia ti ci sparo ok no 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 momento sbagliato per decidere di caricare la pistola vieni mio dai calma 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 caffè per noi dai recupera sto caffè ok qui oddio è tornata la signora con la frusta stiamo attenti della signora con la frusta la signora con la frusta ok sali 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 no di là non ci possiamo andare di là no mi fai andare sanamente dritto ok no mamma porca bravo sei andato per i fatti suoi sei andato per i fatti suoi vediamo se torna torna mamma mia mi fa vola eh dai eh dai che cazzarola troppa cacciara troppa cacciara signori miei troppa cacciara andò sta il giocatore di rugby e lo sapevo siamo morti siamo morti siamo morti con un calcio è morto con un calcio signori mi dai questo oh dai io sono nuovamente mi servirebbe un caffettino subito signori mi servirebbe un caffettino no 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 ma stiamo scherzando signori ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando ma di cosa stiamo parlando ma cosa stiamo dicendo ma di cosa stiamo parlando mamma mia la cacciara siamo morti siamo praticamente morti mi serve un caffè subito mi serve un caffettino subito cos'è questo il lanciafiamme ma non posso farli non li posso arrostire signori ma si ma arrostiamoli come se non ci fossero domani arrostiamo tutti come se non ci fossero domani mi servirebbe anche un punto oh signori scenetta 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 ok signori punto di salvataggio punto di salvataggio io direi che per questo video ci possiamo fermare qui aiuto aspettate aspettate completiamo un attimo la la situation che la vedo molto agitata dai questi continuano a tirare le bombe no 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 si decisamente la situation è molto agitata però dai mamma mia che affetto che ci hanno queste stetizie va bene allora calma il sangue freddo io mi direi che per questo video ci possiamo fermare qui siamo andati avanti abbiamo trovato il boss diciamo di questa zona della città vediamo cosa succederà nei prossimi video va bene ragazzi detto questo un grazie a tutti un grazie per i like per i commenti per i suoi studenti e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un posto contenuto bella raga ciao un grazie a tutti grazie a tutti